Facciamo un gioco. Vi vediamo se avessi già imparato la tabellina del 6. Troppo fasi al 6x3. Chiamate il numero giusto in 5 secondi. Pronti? Via! 6x3 al fasi dicevo Ves ho chiatato il numero giusto. Bravus! Com'ho? In 10 secondi ho ves di chiatà qualca l'error fra quest'is operazioni. De tabellina del 6. 6x1, 6x2, 12x6, 6x3, dicevo. Pronti? Via! Ves ho chiatato l'error tra i risultati. L'error ha letto prima operazione. 6x1, 5x1, 5x6, 6x3, dicevo. E non 6x3, bravus! Pronti? Pronti?